ciao a tutti benvenuti nel mio nuovo video allora oggi è un piccolo video lo spacchettamento della i processi siccome cadono le bottiglie faccio un casino allora io già l'ho aperto perché comunque dovevo controllare se c'era tutta la roba niente vi ricordo che li trovate su instagram come un filo gomma quindi se avete bisogno di qualcosa scrivetemi tranquillamente su instagram allora vi faccio vedere allora come prima cosa questo qui è un bagno schiuma a caffè questa è la novità nuova di i brochet ha un'ottima profumazione proprio per gli amanti di caffè io non l'ho mai trovato ancora però sono curiosa di sapere come chi l'ha provato ha detto che è buonissimo però io se non provo non mi so dire che perché sapete che ci metto la faccia quindi questo qui è la novità della casa i brochet poi ho preso ma si sono due profumazioni questo qui è almeno grano preferito nostro e questo qui è menta piperita lamponi quindi una accoppiata vincente poi c'era l'offerta degli sciampi che ne prendi due a un ottimo prezzo era un settembre credo la mia cliente mi ha ordinato questi qui ai capelli di noi ho preso questa qui schiuma da barba con aloe vera bio e camomilla bio protettiva e anti irritazioni questa bella consiglio perché la usa mio figlio che ha veramente una pelle delicata a 15 anni quindi immaginate proprio la pelle a qualità come delicata con questa qui non ha nessuna irritazione dopo che passa comunque la lametta gli rimane sempre la pelle sembra bella emolliente quindi io ve la consiglio non che la uso io però chi me l'ha ordinata dice che è ottima io lo so perché già l'ho usata mio figlio però questo è per un'altra persona però non me ne intendo tanto della linea un uomo comunque poi vabbè ci sono i campioncini che questa qui è una crema che è andata forte pure la anti age global non so proprio bene bene infatti me la sto ancora studiando però la proverò e vi farò sapere poi vabbè una già me l'hanno rubata perché il profumo ragazzi è veramente eccezionale e il monoi questo qui è shampoo e doccia insieme io ne ho prese ben quattro bottiglie ne ho tre però ho già messa giù in bagno non mi andava di salirla ragazzi questo è proprio il profumo dell'estate ecco il profumo dell'estate è qui rinchiuse in questa bottiglia qua che comunque lascia la pelle morbidissima per i capelli e perché lascia lisci e setuosi a me piace peccato di averne presi solo pochi però siccome con i bambini che mi finiscono tutto anche perché questo qui di bagno schiuma sia non mi dura neanche la settimana comunque questo essendo in due non ho bisogno da mettere lo stampo e quant'altro comunque vi dico qualcosa di questo qui un po benedizione come tutto il francese che l'italiano lo scrivono giù giù vabbè è dermatologicamente testato a ph neutro è il profumo di monoi fracone al cento per cento biciclabile comunque formula biodegradabile e al 96 per cento degli ingredienti naturali quindi proprio ciò che serve in questi prodotti va bene questo il mio mi spacchettamento per questa campagna ovviamente già in corso l'altro perché nell'altro album c'era la promozione infatti non ve la fate scappare anche perché termina il 7 di aprile e ci sono i due più uno uguale 3 quindi voi ordinate due bagno schiuma tracce completamente in omaggio e poi da 400 ml proprio top niente io chiudo qui il mio spacchettamento della il brocet ci vediamo nel prossimo spacchettamento sempre della il brocet naturalmente vi vedrete anche in altri video e niente vi do un bacio e ci vediamo nel prossimo ciao